Il primo è che io non faccio dell'iDesign. In realtà mi ritengo un artista che per una serie di curiose coincidenze ha cominciato a lavorare con la luce. I primi lavori sono poi di tipo fotografico, si sta parlando della fine degli anni settanta e in quel caso mi interessava molto il passaggio del tempo e quindi le ombre perché il passaggio nel tempo della fotografia è dato dalle ombre. Da questo inizio fotografico ho cominciato invece a lavorare direttamente sulle ombre e tuttora sto lavorando all'incirca su questo anche se poi gli spostamenti siamo stati sempre più verso la luce che verso le ombre. Quello che mi affascia la luce è fondamentalmente l'omnicomprensibilità del reale, cioè tutto è praticamente luce. Però è anche un materiale possibile da prendere, quindi è un materiale imprendibile, totalmente evanescente. Molte caratteristiche per un artista sono incredibilmente fascinose. Diciamo è questa la cosa che mi appassiona. è l'imprendibilità della luce e anche la difficoltà nell'entrarci in un'internazione perché poi la luce fa sempre quel che gli pare e quindi all'incirca avrà sempre l'ultima parola e farà sempre grandissime sorprese e appunto una frase che mi è rimasta molto impressa di uno splendido libro che è il libro del Gombrich su Warburg e in un punto lo scrive e mantenne così la sua capacità di stupirsi. Ecco questo è un dono che mi dà regolarmente il mio lavoro. non sempre positivo, ma spesso sì. Rispetto invece al lavoro e sbocco, io ho gran parte, gran parte che riguarda anche la parte proprio dei luci, nel senso che spesso anche le luci stesse sono pensate e progettate per un lavoro con focalizzazioni particolari, con potenze particolari, con distanze luce e ombre particolari eccetera eccetera. Diciamo questa è la parte tecnica più più diciamo banale, ma invece più importante del lavoro perché tranne la luce solare, che grazie al cielo è quella e rimane lì, le altre invece sono luci efficabili, possono essere luci con ottiche, luci invece lasciate nude, luci led o luci con led, perché poi l'avvento è relativamente recente e quindi all'inizio chiaramente lavoravo veramente a fine degli anni settanta con lampadine a filamento, poi con halogene e poi appunto con led. Mi piace molto questa parte manuale, non credo sia così indispensabile perché poi potrei farlo fare ad un'altra persona, sicuramente ma mi piace, mi diverte e anche spesso invece mi aiuta a capire il limite di un materiale o di una tecnica che se io domandassi a un'altra persona sarebbe un po' più complicato da capire. Però per esempio i lavori a lamine all'inizio erano lavori carta resinata, poi sono inventati lavori in PVC, poi entrambe i materiali non davano una totale garanzia di resistenza, quindi sono passata metallo, ottone tagliato a seghetto a mano e adesso invece acciaio tagliato a laser. In realtà poi la differenza, a parte resistenza, per esempio fra l'ottone e l'acciaio è molto relativa, determinati tipi di ottone hanno una rigidità che è invidiata dall'acciaio, che invece è piuttosto malleabile, però anche da grandi garanzie di resistenza alla corrosione, eccetera, eccetera. Diciamo che dividere parte dell'attività intellettuale con parte dell'attività manuale può essere un buon modo di stare al mondo e di rilassarsi ogni tanto da pensieri. Questa parte manuale sicuramente è molto più rilassante e spesso anche meno stressante. Sicuramente questo qui è una parte fondamentale del lavoro, per molte ragioni. Diciamo che la parte più difficile del mio lavoro è riuscire a creare una figurazione che sia il più possibile indefinita, quindi dare pochissimi indizi e fare sì che il resto sia messo dall'osservatore. Questa è un'attività incredibilmente complicata perché io in realtà parto da immagini e quindi sono costretto a fare un'opera in riduzione e a immaginarmi fino a quanto io posso ridurre. Inoltre, essendo le ombre un materiale estremamente infuggevole e sfuggente, riuscire a ottenere i giusti toni comporta un'esperienza, cioè comporta di averci dedicato tempo e attenzione. E' anche importante per un'altra ragione, perché appunto noi siamo abituati alla lettura delle immagini istantanea. Abbiamo immagini pubblicitarie, la cosa fondamentale è che noi si capisca subito che cosa significa, perché, dove vuole arrivare. All'incirca, insomma, deve essere tutto incredibilmente chiaro, quindi siamo bombardati da immagini continuamente, tutte chiarissime, noi stessi facciamo immagini con cellulari continuamente in modo addirittura compulsivo e perdiamo la grande magia di leggere le immagini. Riuscire a rallentare questo percorso è forse una delle parti più interessanti del mio lavoro. Specialmente all'inizio soltanto il 50% delle persone capiva che queste ombre rappresentavano le immagini. Quando ho fatto la prima mostra delle segnatrici, che poi sono questi lavori alle mie spalle, solo il 50% riusciva a leggere che erano dei ritrati di donne. Poi come se per magia invece si stratificasse questo significato, il lavoro è sempre stato invece più letto, più visto. Questo è anche uno strano, diciamo, prova che riguarda proprio la cultura. Per esempio, le mie esperienze in Giappone sono che di un'immagine estremamente labile, che comporta una grandissima dose di immaginazione dell'osservatore, il 90% delle persone riescono a leggere l'immagine, cosa che in occidente è molto più difficile, molto più rara. L'immagine spessa, appunto, rimane non letta e rimane misteriosa. Beh, è interessante, ma è un'altra cosa, insomma. Diciamo che comunque un po' il fine del mio lavoro è riuscire a raggiungere quel limite in cui un'immagine forse è percettibile, ma potrebbe anche no. Per cui nell'osservatore rimane come se volesse capire, ma non riesce a capire fino in fondo, rimane questa sensazione di indefinito, che è quello che crea poi un po', secondo me, l'attenzione di un lavoro. Cioè, quando quasi lo vedi, ma forse no. rimane questo senso di, sì, si potrebbe dire di insoddisfazione, ma anche no, si potrebbe dire anche di indeterminazione, di come se questa cosa potesse essere anche un'altra. Ecco, questo limite di ambiguità è una parte fondamentale del mio lavoro. Ecco, questo limite di ambiguità è una parte fondamentale del mio lavoro.